Alluvioni, presto i soldi e danneggiati, l'onorevole Nicola Catania, deputato regionale dei Fratelli d'Italia, precisa che i ristori potranno essere erogati entro la fine dell'anno in corso. La notizia è emersa nel corso della trasmissione De Politicum, andate in onda ieri sera su Telesud. Ecco la nostra notizia del giorno. L'esordio stagionale di De Politicum, ieri sera, in diretta su Telesud, ha portato più di una speranza per i cittadini che hanno subito danni a causa delle alluvioni dell'anno scorso. I primi fondi, 5 milioni, sono oramai certi e nell'emore di capire come aumentarli queste somme potrebbero essere erogate già entro la fine dell'anno in corso. A dichiararlo è stato il deputato regionale dei Fratelli d'Italia, onorevole Nicola Catania. I 5 milioni che sono stati appostati per una necessità tecnico-finanziaria, nella giornata di martedì mattina, in Commissione di Bilancio, abbiamo dovuto fare due emendamenti sul collegato TER, va in votazione martedì, perché sulla formulazione scritta non era possibile fare un riparto puntuale anche rispetto alle cose che tu stesso stavi dicendo. Sono due cose completamente diverse, l'abbiamo puntualizzata tecnicamente martedì in Commissione di Bilancio con due emendamenti, quindi oggi votando martedì già i 5 milioni possono essere tranquillamente erogati. C'è un impegno del governo che ha sempre parlato chiaro su questa questione, io non più tardi di oggi ho sentito Falcone su alcune questioni, c'è l'impegno che i 5 milioni reperiti in sede di approvazione di finanziaria, è già uno sforzo piuttosto importante, oggi e con l'impegno del governo in attività finanziaria, quindi facciamo capire una cosa ai telespettatori, perché tu prendi quando vuoi e metti? Ci sono delle finestre, sono le finestre delle norme finanziarie, su questa finestra che si aprirà ora nel mese di ottobre per la legge di stabilità, noi abbiamo già preso un impegno col governo che nel momento in cui queste somme non bastassero, noi siamo già disponibili e pronti a mettere tutte le sosse necessarie per ristorare tutti. Allora, il cittadino di Trapani o di Misiriscemi che ha subito un danno per quanto riguarda le alluvioni, quando potrà ottenere le terre martedì? In termini di tempo, ecco, stiamo parlando di cose pratiche, io cittadino ho subito un danno entro l'anno, entro il 2023, la sera abbiamo detto allo zio Ciccio, allo zio Salvatore che hanno subito dei danni che entro fine anno prenderanno i soldi. L'ha detto l'onorevole Catania. Di giusto, questa sera è stato detto questo. Alle dichiarazioni di Catania fanno seguito stamattina quelle del collega deputato di minoranza onorevole Dario Safina. Sono lieto di apprendere dalla via voce del deputato regionale di Fratelli d'Italia Nicola Catania, dice Safina, che entro il 31 dicembre di quest'anno tutti i cittadini siciliani che hanno subito danni dalle alluvioni dello scorso autunno 2022 verranno risarciti. Come opposizione, precisa ancora il deputato Safina, siamo stati scettici e critici sul primo stanziamento di appena 5 milioni per le tre province siciliane, ma le parole dell'onorevole Catania ci rincuorano. Il governo regionale inserirà in finanziare un capitolo ad hoc per i rissori di privati. Se si tratta di aspettare fino al 31 dicembre e ognuno dei siciliani alluvionati, compresi quelli della provincia trapanese, sarà risarcito dai danni, attenderemo volentieri. Mancano, del resto, poco meno di tre mesi, dice Safina, per scoprire se si tratta del solito annuncio o, almeno stavolta, di fatti concreti. Chiudiamo qui la nostra notizia del giorno. Tra poco torniamo con tutte le altre notizie. Riprende la mensa scolastica, pasti caldi per gli alunni trapanesi a partire dal prossimo giorno 16 di ottobre. Conclusa l'operazione Mare Sicuro, questo è il bilancio dei controlli effettuato dalla Capitaneria di Porto di Trapani. Il verde della discordia, Eritrosse segnala un'inadeguata cura degli alberi da parte del Comune di Trapani e chiede l'acquisizione degli atti. Tra gastronomia e promozione del territorio, D'Alcamo si è tenuta alla giornata conclusiva del progetto Travel and Task Gal Elimos. Lo sport domani la prima in casa, conferenza stampa al Palasciarch per la presentazione della sfida di domani con Casale Monferrato. A prendere la parola coach parente, il presidente Antonini. Cosa vuol dire essere ciechi? Il nostro approfondimento sulla condizione di disabilità attraverso la testimonianza di un non vedente. Un rinnovato buongiorno a tutti voi da parte della redazione di Telesud. Riprende a Trapani il servizio di mensa scolastica. Pasti caldi per gli alunni già dal prossimo giorno 16 di ottobre. Vediamo il servizio. Dal prossimo giorno 16 riprenderà a Trapani il servizio di mensa scolastica. Lo ha annunciato questa mattina il sindaco Giacomo Tranchida. Pasti caldi pertanto per gli alunni degli istituti Marconi, Pertini, Bassi Catalano, Montalto e Nunzionasi. Il primo cittadino ha già richiesto ai dirigenti scolastici gli elenchi nominativi degli studenti che usufruiranno del servizio. Elenchi che saranno utilizzati dalla ditta appaltatrice per l'inserimento massimo degli utenti nel portale Aristocloud che gestirà la registrazione, i pagamenti e l'ordinativo giornaliero dei pasti. Questo passo, evidenza il sindaco, è cruciale per garantire un avvio senza intoppi del servizio di riflessione scolastica ed ancora il servizio di riflessione scolastica è fondamentale per il benessere e la nutrizione degli studenti e rappresenta un'importante iniziativa per la comunità scolastica locale. L'amministrazione comunale aggiunge Tranchida è determinata a garantire che il servizio funzioni in modo efficienza e benefico per tutti gli studenti coinvolti. I genitori e gli studenti sono invitati a seguire da vicino le istruzioni fornite dalle rispettive scuole e a collaborare attivamente per assicurare il successo di questa iniziativa che lo scorso anno è stato utilizzato da più di 700 piccoli alunni. Frattando l'amministrazione comunale resta a disposizione per eventuali chiarimenti o domande da parte delle scuole e delle famiglie. Per ulteriori dettagli o informazioni è possibile contattare il dirigente scolastico del proprio istituto, ovvero l'ufficio comunale competente. I carabinieri di Castelvetrano hanno denunciato un uomo di 34 anni per i reati di danneggiamento, lesioni personali e violenza al pubblico ufficiale. I militari dell'arma intervenuti per una lite all'interno di un'attività commerciale hanno constatato all'arrivo che il 34enne avrebbe danneggiato il negozio e aggredito fisicamente il titolare. Alla vista degli uomini in divisa l'uomo si sarebbe scagliato contro di loro con calci e pugni. Dopo essere stato bloccato per lui ovviamente è scattata la denuncia. Cambiamo argomento. Centro storico di Trapani terra di nessuno. Il comitato boccia le ordinanze e i regolamenti varati dall'amministrazione comunale per la stagione estiva. Nonostante ordinanze e regolamentazioni varati dall'amministrazione Tranchida, il centro storico di Trapani continua ad essere terra di nessuno. Concluso il mese di settembre, il comitato centro storico stila un bilancio della stagione estiva e delle questioni sollevate durante questi mesi con l'amministrazione. Si parte con la movida, nessuna informazione preventiva sugli eventi, limiti sonori non rispettati e palchetti occasionali senza regolamentazione. Il comune di Trapani, in linea con le raccomandazioni del prefetto, lo scorso giugno ha emesso un'ordinanza con la quale regolamentava le lecite attività musicali svolte dagli esercizi pubblici, imponendo dei limiti orari alle stesse, oltre a dettare ITER di comunicazione preventiva in caso di eventi live, rimandando alla normativa nazionale per quello che riguarda il rispetto dei cosiddetti volumi delle emissioni sonore. Non vogliamo tornare sulle polemiche e discussioni che tale ordinanza ha generato, ma abbiamo rilevato, non come comitato, ma come cittadini residenti nel centro storico, che l'applicazione di questa ordinanza è sembrata limitarsi al rispetto dei orari limite imposti agli esercenti, mentre nessun controllo sembra esserci stato, né sui volumi, né sulle necessarie relazioni fonometriche associate agli impianti acustici. Uno dei temi caldi per i residenti del centro storico è l'occupazione del suolo pubblico. Considerate le regole per le concessioni e le deroghe covid scadute, il comitato ha chiesto più volte una regolamentazione chiara delle concessioni e una ancora più chiara definizione fisica degli spazi concessi, ma anche questa stagione estiva si è conclusa e non c'è mai pervenuta nessuna risposta, né un riscontro ufficiale, dice Catania. Il comitato, infine, interviene sulla ZTL. Da sempre chiediamo una vera zona traffico limitato nel centro storico e più volte abbiamo sollecitato un incontro con ATM, ma non è arrivato un seguito alle nostre richieste, sottolinea il presidente Catania, ribadendo come, invece, che essere un valore aggiunto per il residente, la ZTL è diventata un ostacolo ulteriore al benessere di chi abita il centro storico. A questo si aggiungono i atavici problemi di pulizia stradale e di fornitura idrica che continuamente attanaiano la città, ma soprattutto il centro storico. Parliamo di turismo, di offerta culturale e di movida per accogliere e far divertire il turista che abita la nostra città e viene a visitarla. E poi non ci preoccupiamo che non abbia acqua per lavarsi, con l'assenza di servizi essenziali come quello idrico e di una pulizia stradale decorosa, non potremmo mai essere competitivi, conclude così Catania. L'ex provincia di Trapani impiegna oltre un milione di euro per l'assistenza agli studenti disabili, ma la polemica non si placa. Svolta per l'assistenza agli studenti disabili nel Trapanese, l'ex provincia ha infatti impiegato oltre un milione di euro per avviare il servizio. Gli alunni degli istituti superiori di secondo grado, pertanto, potranno fruire del servizio di assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione. A gestirlo la cooperativa sociale Nino d'Argento di Partinico, fino al 22 dicembre. Nell'attività saranno impiegati anche gli Atacom. La mancata attivazione del servizio aveva scatenato le proteste delle mamme e degli studenti, che nei giorni scorsi avevano dato vita ad un sit-in di protesta davanti alla prefettura. In quella circostanza avevano ricevuto la promessa che la situazione si sarebbe sbloccata nel giro di pochi giorni, il tempo per sistemare le carte. Per oggi era stata annunciata una seconda manifestazione di protesta, sempre davanti al Palazzo del Governo. Le polemiche però non si placano. Caterina Tusa infatti sostiene che l'affidamento del servizio alla cooperativa di Partinico comporta un declassamento dell'inquadramento professionale, denunciando anche di non aver ricevuto alcuna risposta da parte del Libero Consorzio Comunale per conoscere i motivi della sospensione del servizio, che aveva tagliato fuori 40 lavoratori Asacom su 130. Si è conclusa l'operazione Mare Sicuro 2023. Questo è il bilancio dei controlli effettuati dalla Capitaneria di Porto nel Trapanese. E' tempo di bilanci per la Capitaneria di Porto di Trapani. Si è infatti conclusa l'operazione Mare Sicuro 2023, svolta nei mesi estivi in collaborazione con gli uffici dipendenti di Pantelleria, Marsala, Favignana, Marettimo, San Vitolo Capo e Castellammare del Golfo, che ha visto impegnate giornalmente lungo il litorale 15 unità navali ed altrettante pattuglie a terra allo scopo di salvaguardare la vita umana in mare, tutelare la sicurezza della navigazione e della balneazione, difendere l'ambiente marino dall'inquinamento e prevenire e reprimere l'abusivismo demaniale. Per quanto riguarda la sicurezza della navigazione e della balneazione, sono 104 le operazioni di soccorso effettuate, 37 diportisti soccorsi, 15 unità navali e 16 bagnanti tratti in salvo. Le pattuglie a terra, in stretta collaborazione con il personale in mare, hanno elevato 66 verbali per violazione dei divieti contenuti nell'ordinanza di sicurezza balneare e delle norme del codice della navigazione. In particolare, le infrazioni più ricorrenti hanno riguardato l'assenza dell'assistente bagnante all'interno di stabilimenti balneari in concessione già operativi, l'ancoraggio e la navigazione di unità da di porto sotto costa nei pressi della riserva dello Zingaro e nei 300 metri dalla costa, riservata alla balneazione, antistante le località turistiche più frequentate, come la spiaggia di San Vitolo Capo, Favignana e il litorale di Castellammare del Golfo. Sanzionate anche l'uscita e il rientro di kitesurf al di fuori degli appositi corritori di lancio presenti in mare e la navigazione nelle acque antistanti il litorale dello Stagnona. Dal punto di vista della tutela del demanio marittimo, a fronte di 652 ispezioni e controlli, sono state redatte 7 notizie di reato, principalmente per occupazioni e innovazioni abusive lungo la costa con strutture fisse e mobili. Infine, per quanto riguarda la difesa dell'ambiente marino dall'inquinamento, in collaborazione con l'ARPA e con il Laboratorio di Sanità Pubblica dell'Asp di Trapani, sono stati effettuati oltre 25 campionamenti e prelevi d'acqua di mare in prossimità delle spiagge e località balnearie turistiche più frequentate, per verificare la presenza di sostanze inquinanti o pericolose per l'abbaleazione, 5 verbali elevati per sversamento di reflui fognari in mare in assenza dell'autorizzazione rilasciata dagli enti competenti. Ci fermiamo soltanto per una breve pausa. Il verde della discordia Eritros segnala una inadeguata cura degli alberi da parte del comune di Trapani e chiede l'acquisizione degli atti. Tra gastronomia e promozione del territorio ad Alcamo si è tenuta la giornata conclusiva del progetto Travel & Task Gal Elimos. Ecco lo sport, domani la prima in casa, conferenza stampa al Palasciarca per la presentazione della gara di domani contro Casale Monferrato, a prendere la parola coach parente e il presidente Valerio Antonini. Come avete sentito nei titoli parliamo di Eritrine. A Trapani è polemica sulla potatura degli alberi. La presidente di Eritros, Elena Lombardo, segnala un'inadeguata cura del verde pubblico da parte del comune e chiede l'acquisizione degli atti. A Trapani il verde pubblico fino all'anno scorso era stato curato con i giusti crismi e criteri. Quest'anno ci ritroviamo ad osservare delle capitozzature, delle defogliazioni con tagli anche molto imperfetti, eseguiti da una ditta che a nostro parere non ha le giuste competenze e qualità per poter eseguire delle potature di un certo tipo. Oggi in particolare abbiamo potuto assistere alle capitozzature, alla capitozzatura che è proibita per legge, esensi della legge 10 del 2013, negli oleandi che si trovano di fronte alla Banca d'Italia. Peraltro un intervento particolare perché sono state potate cinque piante da una parte della piazza, ma gli altri oleandi che si trovano invece al centro della piazza Sant'Agostino non sono stati toccati e quindi vediamo anche un intervento fatto un po' sporatico da una parte e dall'altra. Mi è stato detto che questo intervento è stato fatto perché c'era rischio di incolumità da parte dei cittadini. Mi sono recata sul posto ed effettivamente confrontandomi con i cittadini mi hanno riferito che le palme che si trovano, le giummarre che si trovano all'interno dell'Aiuole sono all'altezza di viso d'uomo e andavano potate. Però per esempio rispetto agli oleandri mi hanno detto che non avevano nessuna difficoltà. Mi è stato riferito da parte di persone competenti dell'ufficio di Trapani che queste piante sono malate, che sono cave e quindi c'è qualcosa che non torna. E Ritros che cosa ha intenzione di fare? Chiederemo l'acquisizione degli atti perché ovviamente se c'è una sentenza di malattia di una pianta, certamente ci sarà anche il parere di un agronomo, di un perito agrario o di qualcuno che abbia studiato per potersi esprimere in tal senso, perché sono certa che il Comune non va a distruggere, soprattutto oggi con i cambiamenti climatici, in un periodo in cui si cerca di rimboschire, di ripiantare, in cui gli alberi si ha una certa sensibilità. Dubito che il Comune possa avere un atteggiamento ostico nei confronti del verde. E sulla questione del verde pubblico è intervenuto l'assessore Emanuele Barbara che ai nostri microfoni ha illustrato l'attuale condizione degli alberi a Trapani e i prossimi interventi. Noi stiamo procedendo ormai già da diverse settimane con una serie di attività in giro per la città. Chiaramente, come abbiamo detto anche ieri in una nota pubblicata dal Comune di Trapani, stiamo procedendo ad emergenze. Quindi su tutte stiamo intervenendo sulle ritrine. Già abbiamo terminato Piazza Vittorio Veneto, abbiamo visto anche nei giorni scorsi che una di queste è letteralmente collassata al suolo, altre erano stracolme, avevano bisogno di essere alleggerite. Che sia o meno la fase giusta per intervenire onestamente non mi interessa, perché noi dobbiamo tutelare la sicurezza dei cittadini. Lì sottopassano famiglie, bambini, anziani, turisti e già più volte abbiamo rischiato, purtroppo, che si arrivasse addirittura ad avere una brutta, un bruttissimo pomeriggio. Mettiamola così, giriamo intorno alla parola morto che non volevo pronunciare, ma la dico affinché tutti possano capire di che cosa parliamo. Lunedì saremo in Viale Duca d'Aosta, quindi nella zona del porto, interverremo sulle altre eritrine. Oggi abbiamo effettuato degli altri interventi sugli oleandri di Piazza Scarlatti, degli alberi che non sono stati capitozzati, questa brutta parola che viene utilizzata così perché noi ci divertiamo a tagliare gli alberi, ma degli alberi che sono malati, degli alberi che hanno il tronco quasi completamente secco, che rischiavano di cadere al suolo da un momento all'altro. Siamo intervenuti adesso anche sulla Fontana del Tritone, in questo momento siamo dentro la Villa Margherita, ci sono un sacco di emergenze e quindi sostanzialmente il criterio è emergenza da risolvere, evitare rischi per la popolazione che piaccia o meno agli ambientalisti. Sembra quasi che ci sia un accanimento contro le eritrine, è vero oppure no? Assolutamente no, l'accanimento lo vede chi lo vuole vedere, i cittadini ci chiedono una risposta seria, concreta, ci chiedono di arrivare ad una soluzione rapida e ci chiedono di poter passeggiare in tranquillità. Non c'è nessun accanimento, anzi questa amministrazione è intervenuta reperendo con le difficoltà note del bilancio tutte le somme possibili per effettuare una serie di lavori, li stiamo facendo, non c'è nessun accanimento. Invito gli amici ambientalisti a collaborare anziché fare sempre sterili polemiche. La promozione del territorio e delle sue eccellenze gastronomiche sono state al centro dell'iniziativa tenuta ad Alcamo nell'ambito del progetto Travel and Test del Galelimos. Promuovere il territorio attraverso le eccellenze gastronomiche partendo da ciò che la terra offre per poi proporre, grazie a chef, sempre più creativi e preparati delle portate uniche ed irripetibili. Questo è stato il live motive della giornata conclusiva organizzata ad Alcamo nell'ambito del progetto Travel and Test Galelimos che si è svolta in questa direzione partendo proprio dalla valorizzazione dei produttori, dall'ortofrutta alle farine, dalla semola alla carne, dall'olio al vino. Questo è il progetto studiato per questo comprensorio che va da Calatafimi a Trapani, da San Vitolo Capo a Custonaci e sostanzialmente il comprensorio del Galelimos. Abbiamo inventato una nuova formula legata alla valorizzazione del territorio in una maniera un po' alternativa, nel senso che noi abbiamo coinvolto gli operatori all'inizio attraverso delle interviste, delle indagini e poi li abbiamo messi insieme anche in aula. L'hanno incontrato con noi degli esperti di marketing, la comunicazione. Con loro abbiamo costruito un altro percorso che è anche quello di costruire l'esperienza nelle aziende. I prodotti sono prodotti tipici, autentici, locali. Noi conosciamo i produttori, abbiamo visitato le aziende. Se noi vogliamo far arrivare il progetto del turismo astronomico, questo prodotto al palato dei nostri turisti dobbiamo intercettarli dove loro vanno, quindi nelle imprese del food and beverage, della ristorazione, che noi abbiamo chiamato vetrine. Chi ha il logo di Traore in testa è un'azienda di ristorazione che è stata con noi, che ha anche seguito i nostri momenti formativi seminariali e che acquista dei prodotti locali e poi li offre all'interno dei propri menù. L'evento è altrettanto innovativo perché si rivolge a tre target diversi ma molto importanti, i giornalisti, il mondo del giornalismo, il mondo dell'ospitalità e i giovani, i giovani che bisogna formare e qualificare. Quindi sono momenti importanti, formativi per i nostri ragazzi che devono comprendere bene quanto possono essere loro gli ambasciatori del territorio domani. Le tre vicette sono state preparate dagli chef Pino Maggiore, Peppe Giuffrede e Andy Luotto che hanno reso tangibile il legame tra cucina e territorio. L'esperienza molto bella, positiva, sto in mezzo ai ragazzi docenti della scuola alberghiera e a me mi dà felicità. I prodotti sono talmente buoni qui che io in pratica solo ho assemblato una marmellata di mandarino eccelsa, una ricotta fatta ieri sera, io ho fatto un crumble, ho messo le tre cose, uno sopra l'altro e sono nato 150 porzioni. L'iniziativa è stata volta a valorizzare l'importanza dei produttori locali e dei loro prodotti come espressione autentica della regione. Sono Mauro Bologna, il rappresentante legale della Natura Amica che è la società capofila del progetto Travel & Taste. La mia azienda principalmente si occupa della trasformazione delle materie prime che produciamo noi direttamente in azienda agricola. Chiudiamo tutta la filiera, quindi dalla coltivazione fino alla trasformazione. I principali prodotti di punta sono le confetture, le marmellate e le conserve. Noi principalmente commercializziamo o all'interno del nostro ristorante oppure direttamente al laboratorio e tramite portale web. Questa sera allo stand Florio di Palermo si terrà un gran galà di beneficenza promosso dall'AFMAL per raccogliere fondi da destinare al centro di accoglienza Beato Padre Olallo. Il centro Beato Padre Olallo prende vita dalla volontà di un gruppo di persone di attivarsi per aiutare concretamente più bisognosi. Si tratta di una casa di accoglienza diurna e notturna per tutti coloro che si trovano in condizioni di povertà. Questo progetto di accoglienza per i poveri è stato attivato dalla AFMAL di Palermo presso l'ospedale Fatebene Fratelli e stasera presso lo stand Florio di Via Messina Marine si terrà un gran galà di beneficenza in favore del centro di accoglienza Beato Padre Olallo. Testimonia della serata dalla nota trasmissione Ballando con le stelle la conduttrice televisiva Millie Carlucci che ha mandato un videomessaggio. Buonasera e benvenuti a tutti gli operatori dell'ospedale Buccheri Laferla dell'associazione AFMAL perché il lavoro che voi svolgete tutti intorno al centro di accoglienza dedicato a Padre Olallo è veramente un'operazione e un'azione importantissima. Nella nostra società c'è tanto bisogno di solidarietà, c'è tanta necessità di aiuto e voi siete in prima linea e concretamente fate qualcosa di veramente molto molto significativo e importante. Ma naturalmente non possiamo solamente pensare a quello che è successo ieri e l'altro ieri, bisogna proiettarsi verso il futuro. Allora noi siamo qui questa sera per raccogliere ancora maggior buona volontà da parte di chi come volontario si dedica al lavoro proprio nel centro di accoglienza Padre Olallo e poi perché naturalmente c'è bisogno di fondi e questa è una necessità quotidiana perché il denaro serve proprio a creare un aiuto concreto alle persone che hanno bisogno. Quindi so che siete generosi, lo avete fatto fino ad oggi, avete mostrato cuore, generosità e impegno. Continuate e continuiamo a farlo perché davvero è per una causa importantissima. Grazie a tutti, mi dispiace non essere lì personalmente ma io sono al lavoro e quindi non posso spostarmi ma il mio cuore è con voi. In bocca al lupo. È possibile inoltre effettuare una donazione presso la sede Anfumal dell'ospedale Buccheri Laferra attraverso un bonifico bancario. Andiamo agli appuntamenti sulla nostra emittente. Gli appuntamenti di questa sera torna alle 21 e poi replica alle 23 è una nuova puntata di Respubblica. Ospiti del nostro direttore nella prima parte la consigliera comunale di Trapani Angela Grignano e la consigliera comunale di Paceco Tania Basilicò. Invece nella seconda parte il presidente dell'Ios Club di Trapani Tommaso Nasello e l'oculista Angelo Scaglione. Noi ci fermiamo soltanto un attimo e poi torniamo con lo sport. Eccoci con lo sport. Il basket è arrivato ieri in città il secondo americano della Trapani Shark. Chris Horto nel lungo Granata ha incontrato stamani staff, dirigenza e nuovi compagni. Inizia così la nuova avventura in Granata del giocatore USA che però ufficialmente verrà impiegato, non verrà impiegato nella sfida di domani con Casale Monferrato. Si è tenuta invece questa mattina in tardamattinata alla conferenza stampa pre-partita a prendere la parola anche coach Daniele Parente che ascoltiamo. Coach Parente domani la prima in casa la seconda di campionato, arriva Casale Monferrato che partita ti aspetti? È la prima in casa, ci sarà una componente emotiva da non sottovalutare, non vediamo l'ora sarà la prima volta quindi siamo belli carichi, c'è il giusto nervosismo, Casale ha un mix di giovani e veterani, i due americani che possono spaccare la partita da soli, in più i due esperti giocatori italiani che conoscono questo campionato come Fabi e Martinoni, quindi abbiamo visto cosa dobbiamo fare e domani saremo pronti. Si è aggiunto Chris Horton, stessa domanda del Presidente, qual è stata la prima impressione? È chiaro che domani sera non giocherà da quello che abbiamo capito però... Chris è arrivato, oggi ha conosciuto i compagni, ha fatto i primi test, nel pomeriggio farà le visite mediche, quindi domani se tutto andrà bene farà qualche lavorino, purtroppo essendoci il turno infrasettimanale farà pochi allenamenti però siamo contenti che finalmente abbiamo completato il roster con il giocatore giusto, quello che ci mancava, con le caratteristiche che abbiamo cercato a lungo tutta l'estate e non vediamo l'ora di vederla all'opera. Ultima domanda, dai numeri risulta che domani il Palashark potrebbe dare una grossa mano in quanto davvero i tifosi hanno risposto presente all'appello della squadra del Presidente di essere presenti, insomma una spinta importantissima. Non vediamo l'ora, è un segnale come ho detto alla presentazione quasi alla cieca nei confronti della squadra, non alla cieca nei confronti della società per tutto quello che ha investito, noi vogliamo ripagare questo affetto e il nostro obiettivo è quello che poi nelle prossime partite in casa ci sia ancora più pubblico. In conferenza anche il Presidente Valerio Antonini, lo ascoltiamo. Presidente Antonini, domani la squadra esordirà in casa, finalmente è arrivato il momento tanto atteso, dal punto di vista emotivo cosa si aspetta? Beh intanto di vedere il Palashark a pieno, abbiamo numeri spaventosi, siamo quasi a 1700 abbonamenti, abbiamo venduto quasi 400 biglietti, quindi ci aspettiamo tra i 2500 e i 2700 persone domani, che è incredibile rispetto alle ultime annate e mi aspetto di vedere la squadra vincere un po' come ha vinto il calcio l'ultima partita. Non male, tra l'altro è arrivato Orton, quindi ho già conosciuto la squadra, la dirigenza, lo staff, qual è stata la sua prima impressione? Mi sembra un ragazzo molto determinato, farà le visite mediche stasera, domani speriamo di portarlo in panchina, deciderà il mister questa cosa, ma certamente ci sarà a Milano e completa la squadra al meglio, credo che abbiamo veramente un roster straordinario e quindi adesso bisogna vincere. Ultimo argomento a piacere, c'è qualcosa che vuole dire ai tifosi? Ma intanto ringrazio perché raggiungere questi numeri di abbonamenti in Serie A2 non c'era nessuno, visto che in Serie A anche tante squadre non ci arrivano, quindi già è la dimostrazione che abbiamo veramente fatto qualcosa di unico, impensabile fino a tre mesi fa, adesso l'unica cosa che dobbiamo fare è riempire questo Palasciarc tutte le domeniche, veramente far sentire agli avversari che qua non si scherza, chi viene qua sa che sarà una bolgia perché noi abbiamo solo l'obiettivo di vincere. Cosa vuol dire oggi essere non vedenti? In questo approfondimento, prendendo spunto da un fatto di cronaca dei giorni scorsi, l'Unione Italiana Cechi di Trapani pone l'accento su alcuni aspetti del vivere quotidianamente la disabilità. Vediamo. Nei giorni scorsi abbiamo raccontato che questa signora che è stata beccata dalla Guardia dei Finanze assieme al figlio, quale finta cieca ad utilizzare risorse che a quanto pare non lo aspettavano, dall'Unione Italiana Cechi arriva la necessità di una precisazione perché sembra quasi come se i ciechi non siano in grado di badare a se stessi o badare addirittura agli altri. Quindi così in un certo senso nella velocità dei servizi quasi sembrava fosse passato questo messaggio, ci sembrava giusto invece spiegare come stanno le cose perché sì la disabilità di essere non vedenti, ma questo significa che si è assolutamente autonomo. Vorrei che fosse chiaro che il concetto giuridico di cieco non è quello che si può immaginare il nostro collettivo. La legge disciplina in maniera precisa che cosa significa essere ciechi e dà determinati limiti di vista anche a chi è cieco assoluto o cieco parziale. Ma con Ignacio Grillo proviamo proprio a farvi entrare, anche se velocemente, per quanto possibile in un servizio da telegiornale nel mondo dei non vedenti. Non significa che non possiamo fare nulla? No, assolutamente no. Infatti i privi della vista possono regolarmente svolgere le proprie attività quotidiane, dal badare a se stessi, da raggiungere l'autonomia nel camminare, nel muoversi anche in spazi molto ampi, nello svolgere le attività quotidiane, fare la spesa e muoversi in città, andare al lavoro. Certamente con l'ausilio di specifici strumenti come per esempio il bastone bianco per la mobilità che permette di individuare gli ostacoli e quindi evitarli o il cane guida, ma anche utilizzare il cellulare. Infatti adesso tutti i cellulari hanno in sé installati i dispositivi di sintetizzatore vocale che permettono appunto al cieco di utilizzarlo come tutti gli altri, con le stesse funzionalità e raggiungendo gli stessi medesimi obiettivi. C'è anche la possibilità di lavorare al computer, di scrivere, di mandare le mail, sempre mediante la sintesi vocale, ma c'è anche un altro dispositivo annesso che appunto si chiama display braille che permette di leggere ciò che è presente sullo schermo di un pc mediante il sistema di letto scrittura braille che è appunto il codice con cui i non vedenti grazie all'utilizzo del tatto riescono a leggere e a scrivere. Per cui assolutamente seppur con degli specifici ausili il non vedente può condurre una vita assolutamente alla pari in tutte e dico tutte le attività quotidiane come può fare un vedente, un normodotato. Consideriamo che ad oggi ma ad oggi magari in futuro non sarà più così, un non vedente l'unica cosa che oggettivamente non può fare è guidare l'auto, ma ci auguriamo che anche questa barriera possa essere superata. E noi ce l'auguriamo assieme ad Ignazio Grillo e sulla questione ci ritorneremo certamente con qualche approfondimento maggiore proprio per dare spazio, voce e allargare insomma il mondo della sensibilità, far conoscere meglio un pochino questa categoria di persone che assolutamente a di là del difetto visivo insomma poi appunto sono normalissimi come tutti. Assolutamente e io sono un non vedente, un cieco totale e preciso una cosa, io in primis e tutta l'Unione Italiana Ciechi in ogni caso condanna fermamente e lo sottolineo fermamente chiunque volesse arrogarsi dei diritti non propri perché questo arrega danno a tutti noi che siamo realmente, viviamo la condizione di cecità.